Siamo stati invitati dal sindaco Federico Riboldi per una premiazione abbastanza particolare. Quest'anno, come pierce 14 su Butteo Club, abbiamo preso parte per la prima edizione della Youth Champions League, che è la Champions League dedicata ai ragazzi. A Framerie, in Belgio, nel mese di marzo, abbiamo come unica squadra italiana partecipato a questa competizione. Chiaramente era uno dei nostri obiettivi stagionali, ci siamo preparati con grande impegno e alla fine della giornata di gare siamo risultati la squadra vincitrice. Per cui il nostro club, nell'albo d'oro della manifestazione, è alla casella numero uno e sicuramente la prossima edizione, se ci sarà, ci vedrà ancora ai nastri di partenza, perché queste manifestazioni le riteniamo molto formative per i nostri ragazzi che possono affrontare dei ragazzi stranieri, conoscerli e conoscere nuove realtà. Questo nell'ottica proprio non solo di crescita tecnica ma anche morale del ragazzo. Per cui noi chiediamo un grosso impegno ai giovani per prepararsi a queste manifestazioni e in cambio diamo delle manifestazioni di sicuro livello che li gratificano e soprattutto li porta ad affrontare realtà nuove, oltre a quella italiana che già da anni frequentiamo abitualmente. Quest'anno ci eravamo dati come primo obiettivo la Youth Champions League, però a maggio, per i campionati italiani a squadra e primavera, ci tenevamo a ottenere la nostra stellina. Oltre a quella del casale calcio che già campeggia sulle nostre maglie, noi volevamo mettere quella dei dieci scudetti. Il nostro club, dalla nascita dei campionati italiani a squadra del 2007, partendo dal 2009, aveva collezionato nove vittorie. Ora ci serviva la decima. La squadra era in parte la stessa di quella che avevamo schierato in Belgio e così facendo siamo riusciti ad ottenere anche la decima tacca, il decimo scudetto e perciò abbiamo la nostra stellina e anche lì un altro grande risultato dei nostri ragazzi. Il nostro club ha come elemento fondamentale e fondante soprattutto sviluppare l'attività sportiva con il settore giovanile. In passato abbiamo avuto anche dei giocatori che non erano casalesi e che non venivano dal settore giovanile, ma erano già degli adulti. Da qualche stagione abbiamo deciso, anche se questi giocatori erano al massimo uno o due, di non più usufruire di queste possibilità, ma di giocare solo con ragazzi del nostro settore giovanile o comunque giocatori che fanno parte della zona in cui noi operiamo, che è il Monferrato. A questo proposito noi la nostra attività giovanile, oltre a svilupparla con le scuole, la facciamo come allenamenti all'Oratorio del Valentino, dove abbiamo già da più di dieci anni la nostra sede operativa e dove abbiamo una sala gioco dove allenare i ragazzi, con due allenamenti settimanali in orari prettamente favorevoli per l'attività giovanile che vanno dalle ore 17 alle ore 19, per cui proprio dedicato per i ragazzi anche come orario. Pertanto se qualcuno volesse entrare nel magico mondo del subuteo, quello che per quelli della mia età era il gioco per eccellenza, ma vi garantisco che lo è ancora oggi, se si ha la pazienza di imparare le regole, imparare i tocchi, imparare tutte le tattiche che questo gioco offre, è la magia di un gioco che è nuovo tutte le volte che lo si gioca, perché è frutto del nostro ragionamento, nessun software, nessuna monitor, niente, solo la voglia di mettere le miniature sul campo e far correre la pallina.